Amo, c'hai visto Chiara ieri con quei leggings? Cioè, era improponibile! Poi Francesca che va a dire a tutti che c'è andata con Marco, ma non è vero, c'è Marco sta con me e forse so corluta. Amo, ma invece di andare a fare shopping, perché non andiamo al McDonald's e ci mangiamo 70 cheeseburger? Pronto? Amo, scusa, scusa, scusa se sono in ritardo, c'è... Lo so che sono in ritardo di mezz'ora, ma guarda, 5 minuti sono là, ciao, 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 merda! Steppale, non lo voglio di uscire, ma perché non siamo sul divano io e te insieme e ci guardiamo le serie su Netflix? E tu provare a rinsultare la mia migliore amica, io ti prendo e ti ammazzo di botte, poi quando ti ho ammazzato di botte ti è risuscita e poi ti riammazzo, ok? No, bella, non mi parlare più, vai da sera, vai, non uscire più con me, ok? Cosa? Io gelosa? Ma fammi il piacere! Guarda quella stronza, è uscita con Martino e non me l'ha detto, cioè, ha fatto tutti questi post dieci minuti fa, io quella l'ammazzo! Amo, cioè, hai visto, Matteo, quanto è figo, cioè, con quegli addominali scolpiti, fai quel culo! Amo, facciamoci una foto! Veste free of forever! Forever friends! Amiche per sempre! Ah, che palla, amo, sti reggisoni mi stanno strettissimi! Lo so che non mi doveri lamentare, cioè, lo so che tu sei piatta, io c'ho una quinta, però dai, ma vetti, cresceranno anche a te!